Cari amici dell'Orizzonte degli Eventi, Buonasera, bentornati e bentornato a Roberto Marchesini. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, dopo aver parlato estensamente della Polonia, del periodo di Solidarność che rappresentò un cambio di regime, un cambio di paradigma all'interno di quel vasto movimento che in Europa accompagnò la caduta della portina di ferro, non diciamo la caduta del comunismo perché in realtà poi si è ripresentato in questo spettro che si aggira per l'Europa, continuata ad aggirarsi, però diciamo il crollo dell'Unione Sovietica e di tutti i regimi che erano satelliti di questa grande potenza. Dopo aver parlato della Polonia parliamo della quella che oggi si chiama la Repubblica Ceca ma che allora si chiamava ancora Cecoslovacchia. Ricordiamo come Cecoslovacchia e ritorniamo al 1989 che è stato un anno molto importante, l'anno in cui hanno tirato giù il muro di Berlino e l'anno in cui avviene questa rivoluzione di velluto definita. Cioè l'altra era una rivoluzione dove non si è rotto neanche un vetro, qui hanno usato il velluto. Insomma strano per una rivoluzione perché le rivoluzioni sono di solito molto sanguinolente anche. Bene allora raccontiamo questa rivoluzione di velluto. Ecco anche qui apprezzo molto il parallelo con la Polonia perché la storia è davvero molto simile. Là avevamo questo personaggio un po' strano, Wawensa, glorificato all'estero come eroe solitario contro il regime, mentre in Polonia insomma che conoscevano le cose da un altro punto di vista, in maniera forse anche più approfondita, non lo consideravano come lo consideriamo noi. Lì c'è stata questa rivoluzione un po' strana nella quale non si è rotto neanche un vetro, secondo una definizione dell'ansa se ricordo bene, e qui abbiamo addirittura una rivoluzione di velluto, il velluto più liscio di così non poteva andare questa rivoluzione. Ecco, allora vediamo un po' questi strani personaggi, questa strana rivoluzione anche in Cecoslovacchia. Cominciamo con Avel, anche qui un personaggio molto noto, molto esaltato, portato in palmo di mano all'estero, perché in realtà è molto criticato e molto discusso in quella che si chiamava Cecoslovacchia, adesso Repubblica Cecca, anche in Slovacchia. Allora partiamo un po' da Avel, chi era Avel? Avel era il, diciamo, rampollo di una famiglia ricchissima, di una famiglia della borghesia boema straordinariamente ricca. Il nonno aveva costruito teatri, aveva costruito ristoranti, aveva costruito dei palazzi, il padre anche aveva costruito proprio in centro a Praga e aveva aperto diverse attività. E Avel si è trovato con il fratello, così, a ereditare tutto questo impero di attività commerciali, di attività ricreative anche, perché c'erano dei teatri, e di edifici bellissimi, magnifici. Nonostante la fama di genio precoce, intellettuale, raffinatissimo, in realtà Avel non combinava niente, nel senso che a scuola ha fatto prima una scuola tecnica, non l'ha neanche finita, mi pare, poi ha scritto un liceo, anche lì ha piantato lì, ha provato poi a fare l'università, ma non è riuscito, insomma un nulla facente, che visto che uno zio era un imprenditore cinematografico, però ha pensato di far carriera nell'ambito dello spettacolo, in quel caso del teatro, e ha cominciato a scrivere dei lavori teatrali. Il primo lavoro che è stato rappresentato, per lui ha scritto due o tre cosette, il primo lavoro che è stato rappresentato, un lavoro del 63 che si intitolava The Garden Party, era un lavoro dell'assurdo, rappresentato al teatro dell'assurdo, la storia è questa, c'è questo tizio che partecipa a una festa, lì incontra vari membri del partito che dicono delle cose sconclusionate, allora lui si mette a parlare in modo ancora più sconclusionato, e loro lo leggono capo di non so che cosa, poi torna a casa e non lo riconoscono, quindi c'è un po' questa situazione proprio assurda, il tipico teatro dell'assurdo. E lui con questa prima rappresentazione è entrato un po' a far parte dell'elite, diciamo, innovativa e culturale di Praga, ha cominciato a frequentare Grossman che era un regista, ha cominciato a frequentare teatri, ha cominciato a frequentare questi ambienti, e lì, proprio qualche anno dopo, nel 65, è stato, come si dice, attenzionato da parte della polizia segreta, nel senso che lui sicuramente veniva da una famiglia molto in vista, aveva avuto quel successo, faceva parte di una cerchia di attori, reagisti, autori, imprenditori, e quindi è stato avvicinato dai servizi. Con che scopo? Con lo scopo di renderlo un agente. Cioè loro volevano capire innanzitutto come la pensava per chiedergli la collaborazione, sostanzialmente. Quindi c'è stato un primo incontro, lui è stato, come si dice in gergo, un canarino, nel senso che ha raccontato di tutto e di più, dello zio che viveva in Germania, degli amici, autori teatrali, eccetera, eccetera. Il risultato è partita questa operazione Musk, perché secondo gli agenti del servizio di informazioni lui indossava una maschera. Quindi l'operazione Musk è stato questo avvicinamento e reclutamento di Avel come agente. Il suo scopo era quello di fortire informazioni su questo ambiente culturale. L'operazione Musk è andata a buon fine, a quanto pare, nel senso che ci sono i resoconti, sono molto positivi nei confronti di Avel. A un certo punto nel 65 si chiude l'operazione Musk e comincia improvvisamente una nuova operazione che si chiamava Tomis 3. Quest'operazione cambia tutto, nel senso che improvvisamente con l'operazione Tomis lui diventa un pericolosissimo contestatore, un pericolosissimo avversario del regime improvvisamente. Quei cambi che abbiamo visto anche l'altra volta. Ricordiamo anche personaggi come Oswald, che prima è un anticomunista, poi va in Russia. Vacuva, esatto, questi cambi. Per cui lui prima era addirittura un papabile agente, improvvisamente diventa un pericolosissimo conto rivoluzionario. Gli mettono prima un microfono in casa, poi un altro microfono in casa, questa è l'operazione Tomis 3, cominciano a pedinarlo, a leggere la sua corrispondenza, cominciano insomma a tenerlo d'occhio. Risultato, diversi suoi amici collaboratori finiscono in carcere. Tra cui, lo cito, questo Jan Benesch, che era anche lui un autore teatrale, che è finito in carcere proprio in quegli anni. Non sono sicuro che sia stato per le denunce o comunque per i pedinamenti che hanno fatto ad Avel. E anche qui è una cosa molto strana. Quando lui è stato rilasciato dalla prigione, è emigrato negli Stati Uniti ed è entrato volontario nei berretti verdi. Vedi quante cose strane che accadono. Comunque, fatto sta che molti personaggi intorno ad Avel finiscono dei guai, a lui non succede assolutamente niente. Improvvisamente finisce anche l'operazione Tomis 3. Così come è cominciata, finisce l'operazione, sbaraccano i microfoni, tolgono la postazione, immaginano delle scene come quelle del film e le vite degli altri, che fa vedere molto bene questi procedimenti, improvvisamente finisce tutto. Cioè lui viene considerato libero. Siamo all'inizio del 68. All'inizio del 68 finisce ogni attività di controllo su Avel. Nel frattempo lui scrive un secondo lavoro importante, si chiama Memorandum. Ho letto la trama, sinceramente non l'ho capita. Perdonatemi, sarà un limite mio. E quindi con questo lavoro lui viene conosciuto in Francia e viene conosciuto anche negli Stati Uniti. E ci sono delle richieste di rappresentare questo lavoro, Memorandum, eccetera, eccetera. In Francia mi pare che viene rappresentato a Parigi. e addirittura gli Stati Uniti per una sola rappresentazione chiedono che lui vada negli Stati Uniti. Ora, l'altra volta in Polonia abbiamo detto che in questi paesi non si poteva espatriare, nel senso che non si poteva viaggiare liberamente. Ecco, a questo proposito stiamo parlando degli anni Sessanta in Cecoslovacchia c'era un regime sotto il diretto controllo diretto controllo di Mosca dove c'erano le stesse modalità di controllo anche degli altri paesi cosiddetti dell'Est, no? Assolutamente. Al punto che proprio nel 68, nell'anno in cui siamo arrivati, c'è il famoso episodio per cui Jampala e altri ragazzi, noi ricordiamo solo Jampala che in realtà sono stati una serie, si sono dati fuoco pubblicamente perché era diventato impossibile vivere con quelle restrizioni, con quella situazione oppressiva, insomma. Quindi era un regime assolutamente, anche in questo caso, sanguinario, non era un regime all'acqua di rosa. Figuriamoci se un intellettuale per di più, tra virgolette, attenzionato da parte dei servizi, poteva fare un viaggio negli Stati Uniti. E cosa succede? Nell'aprile del 68, Havel fa un viaggio di sei settimane negli Stati Uniti, accompagnato dal suo agente teatrale che era Klaus Juncker. Lui va negli Stati Uniti per sei settimane. Quindi, prima cosa strana, gli permettono di uscire. A lui che era tenuto sotto controllo per attività anticomuniste, eccetera. Era l'epoca in cui, per esempio, i ballerini del Bolshoi di Mosca fuggivano. C'era l'episodio famoso di Nureyev. Esatto. Che scappò proprio letteralmente all'aeroporto. Oppure venivi espulso. Cioè, ti davano il permesso di uscire e non rientravai più, però. Però la fidanzata, la moglie, dovevano rimanere. Doveva restare lì. È certo. Doveva farti soffrire. Rendere la vita difficile. Rendere la vita difficile. E invece lui se ne va con il suo agente negli Stati Uniti per sei settimane. Anche lì una piccola notazione economica. Questo che aveva le corone della Cecoslovacchia con la situazione economica e con l'inflazione che c'era in questi paesi prendeva sei settimane negli Stati Uniti. Magari l'hanno invitato, l'hanno ospitato. Va bene, può essere. E lì praticamente trova il paradiso. Perché Avel era uno che in quegli anni si divertiva parecchio con il tridente di Shiva di cui ha parlato Fabbroni, sesso, droga e rock and roll. Cioè lui viveva di quello. Tu mi dirai come arrivava il rock and roll in Repubblica cieca. Un po' come arrivava anche in Polonia grazie alla famosa radio Free Europe che era un progetto della CIA come dicevamo quando abbiamo fatto la serata sulla Polonia. Trasmetteva appositamente musica rock e così probabilmente anche la droga. C'erano anche i modi per fabbricarsi. eccetera eccetera. Lui era uno che frequentava questi ambienti. Va negli Stati Uniti. C'è addirittura una foto nell'aprile del 68 di lui a New York che partecipa a una marcia di commemorazione di Martin Luther King che era stato ucciso. Una foto lui, il suo agente, in questa marcia. Quando lui torna da questo viaggio cambia improvvisamente vita. si trasferisce, esce da Praga, si trasferisce a Radek che è un paese, un paesotto più distante in una Dacia, ristruttura completamente la Dacia aggiungendoci delle stanze, compra un impianto Hi-Fi di altissimo livello, sai quelle cose esoteriche, costosissime eccetera, con un impianto che diffonde musica in tutta la casa e si compra una Mercedes nuova, non usata, nuova. Allora lui, Havel, era un assoluto nulla facente. È vero che era ricco di su, però lui non faceva assolutamente niente, ha scritto quei due lavori teatrali e basta. Era un assoluto nulla facente. Tieni presente che in quegli anni, siamo negli anni 60, nei paesi del blocco sovietico, di macchine ne giravano veramente pochissime. Era un'altra trabant. No, le trabant c'erano nella DDR, lì, non c'erano, non c'erano proprio. C'erano solo per i membri di partito. Le Ziguli. Sì, però non erano per tutti. Ma lui non si compra neanche la Ziguli, si compra una Mercedes. E lì crea questa situazione che ricorda un po' il cabin log di Frank Zappa. Se hai presente la puntata in cui Fabbroni ha parlato del Laurel Canyon, ecco, il centro, diciamo, di questo Laurel Canyon era il cabin log di Frank Zappa, si trovavano tutti lì. E lui ricrea questa situazione. Cioè crea un posto, una zona franca, in cui questi personaggi, questi intellettuali, potevano dedicarsi liberamente a sesso, droga e rock'n'roll. nel 74, quindi sei anni dopo, fa sapere a tutti che ha finito i soldi e che quindi deve andare a lavorare. Finisce i soldi, vai in una casa più picca. No, lui va a lavorare e va a lavorare come operaio in un birrificio a circa dieci chilometri da Radek, a Trutnov. e lì resta per pochissimi mesi, mesi estivi, giusto il tempo di fare un sacco di foto. C'è la famosa foto in cui lui finalmente ha i baffi, si fa crescere i baffi e porta il sacco di orzo sulle spalle e viene proprio da quel periodo, in quei pochi mesi, in cui ha fatto da operaio a Trutnov. Tra l'altro, lui dieci chilometri che separavano Radek a Trutnov li faceva in Mercedes. Ecco, quindi rendiamoci conto. Bene, poi smette di lavorare, non so perché, ritorna nella sua dacia, riprende il suo stile di vita, così. Ora, torniamo un attimo in Polonia, perché un gruppo di intellettuali, tra virgolette dissidenti, facevano parte dell'entourage del partito, ma avevano la loro dissidenza, diciamo una dissidenza interna, hanno scritto un documento intitolato Listu 59 o Memorial 59, quale chiedevano al partito di adeguarsi a quanto era stato deciso nella conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa a Helsinki nel 75. C'era stato questo summit sui diritti umani, avevano preso delle risoluzioni e questi intellettuali chiedevano con Listu 59 di adeguare le leggi polacche e Havel cosa ha fatto? Con altri, insieme a altri, per esempio Cout, che è un altro intellettuale di quel periodo, fa un documento simile, fa un documento simile, si chiama Carta 77, in cui chiede al regime, hanno scritto lui e altri, l'ha firmato lui e altri, tra l'altro piccola nota anche qui strana, questo documento Carta 77 aveva 217 firmatari dei quali 156 erano membri del partito, quindi una dissidenza un po' strana insomma, comunque in questo documento diciamo una fronda interna, una fronda interna se vogliamo chiamarla così, io ho sempre in mente le parole di Lenin che quando qualcuno parlava di opposizione lui rideva, diceva l'opposizione ce la facciamo noi, ecco, la cosa particolare è questa, che in questo documento Carta 77 il contributo di Avel pare sia stato il riferimento a un complesso musicale, i Plastic People of the Universe che erano suoi amici, frequentavano la sua Dacia, erano probabilmente compagni delle sue serate, nottate, giornate, eccetera e qualche mese prima erano stati processati con le solite accuse sovietiche per attività contro rivoluzionare non ben specificata, avevano i capelli lunghi, suonavano musica degenerata, eccetera, eccetera e c'è infatti un paragrafo di Carta 77 che dice proprio così l'esercizio del diritto di comunicare, ricevere e diffondere informazioni e pensieri di ogni tipo senza limitazione sia in forma orale sia scritta che stampata oppure per mezzo dell'arte viene perseguitato non solo sul piano extragiudiziare ma anche su quello giuridico spesso con la copertura dell'imputazione penale come dimostrano fra gli altri i recenti processi contro giovani musicisti facevano riferimento proprio a i Plastic People of the Universe Plastic People era una canzone di Frank Zappa quindi loro avevano preso questa locuzione avevano fatto il loro gruppo un gruppo assolutamente da dimenticare adesso poi hanno fatto un revive hanno fatto qualche canzone delle canzoni assolutamente improbabili però lui erano amici di Avel e quindi lui ha inserito questa cosa nel documento carta 77 praticamente in ciecoslovacchia non se lo fila nessuno però viene pubblicato sul adesso pronuncio malissimo Frankfurter Algeim Zeytung dal Corriere della Sera dal Times e da Le Monde cioè questo questo documento non ha nessuna eco in ciecoslovacchia ma diventa importantissimo in tutto il resto del mondo su questi giornali che come avrai notato sono sempre i giornali dell'establishment perché Corriere della Sera Times Le Monde eccetera sono sempre quelli che girano ecco qui Avel comincia ad avere una certa risonanza all'estero era già conosciuto prima abbiamo detto che in Francia aveva rappresentato una sua commedia eccetera adesso comincia a girare il nome lui il nome di Cout eccetera legati appunto a carta 77 l'altra cosa interessante è che l'anno dopo Soros apre una fondazione anche in ciecoslovacchia ricordi che ne aveva aperta una in Polonia che l'aveva chiamata la Batori Foundation perché Batori era un ungherese che era diventato re di Polonia ci vorrebbe un psicologo per questa gente ma comunque magari ce ne puoi consigliare uno ecco la stessa cosa fa nel 78 in ciecoslovacchia e come chiama quella fondazione fai un nome a caso carta 77 cioè il nome della fondazione di Soros in ciecoslovacchia è esattamente il nome del documento di Avel ok e non si sono citati per violazione del copyright assolutamente si vede che andava bene ad Avel e gli altri intellettuali insomma ok bene nello stesso anno nel 78 esce un'altra un altro lavoro di Avel che ha notevole successo anche questo che è io ho questa edizione il potere del senza potere allora sicuramente è colpa mia ma io faccio una gran fatica a capire come sia possibile che questo testo sia diventato così famoso perché è abbastanza incomprensibile sì c'è la storia dell'ortolano che mette il cartello che è tirata per una quindicina di pagine ma al di là di quello il resto mi sembra veramente un testo dell'assurdo l'unica cosa che ho capito è che è una specie di non dico copia ma si è pesantemente ispirato secondo me a vivere senza menzogne le sol genizi però quello è un testo di un alto livello qui siamo un testo secondo me non così esplosivo che però diventa diventa importantissimo diventa importantissimo e Avel continua a essere sempre più citato diventa un dissidente da parte dei paesi diciamo liberi del paese del mondo occidentale nel 79 lui era attenzionato già dal 65 avevano arrestato quasi tutti quelli che erano intorno a lui aveva fatto carta 77 era andato negli Stati Uniti negli Stati Uniti per sei settimane finalmente nel 79 riescono a arrestarlo ok bene e qui c'è un piccolo mistero come se non bastassero quelli di cui abbiamo parlato fino adesso perché lui quando sono venuti a prenderlo qui cito da una delle biografie di Avel ok e Life quando sono venuti a prenderlo lui salutando la moglie ha detto queste parole e la stessa lo stesso autore della biografia dice parole misteriose pare che lui abbia detto la moglie Olga e va bene gli darò cinque anni della mia vita ma non un giorno di più in cambio di cosa non si capisce questa cosa comunque lui si è fatto non cinque anni se ne è fatti dunque dal maggio del 79 a febbraio del 83 quanti sono maggio 80 maggio 81 sono quattro anni e qualcosa viene rilasciato lui approfitta di questo tempo per imparare le lingue impara l'inglese impara il tedesco ok nel frattempo intreccia una relazione con la psicologa del carcere si chiamava la Zitka Wodnanska bene esce dal carcere si compra un'altra auto nuova tedesca una Volkswagen argentata perché tutti dicono argentata probabilmente si notava molto questa macchina e torna a vivere con la moglie Olga la psicologa la Zitka ha il cuore spezzato e poi scopriremo non solo quello scrive alla moglie dicendo guarda lascialo perché lui mi ama abbiamo una relazione eccetera e la moglie Olga cosa gli risponde ma perché lasciarlo facciamo un menage a trois anzi un menage a quatre perché lui aveva come amante la moglie di Cout l'Anna Coutova quindi gli ha proposto di fare questo Arem intorno a quest'uomo sarà stato molto affascinante bene è una storia che fa sorridere però il finale è tristissimo perché in realtà Zitka la psicologa era incinta e visto che Havel ha assolutamente ignorato la sua relazione al bambino ha deciso di abortire lui poi in quegli anni tra quando esce quindi tra l'85 e l'89 scrive altri tre lavori teatrali di tre atti unici il protagonista si chiama Ferdinand Vanek il protagonista di tutti e tre questi atti unici che è un intellettuale dissidente che lavora in un birrificio quindi la grande fantasia comunque ecco arriva l'89 nell'89 cade il muro di Berlino succede quello che succede in Polonia cade il muro di Berlino e a questo punto vi cito le parole di Soros sempre dal suo libro dedicato ai paesi dell'est lui dice pagina 26 la mia fondazione in Cecoslovacchia entrò in scena armata come palla di Atena ok palla di Atena è Atena con lo scudo la lancia eccetera lui dice la mia organizzazione gli ho dato il via è partita come palla di Atena bene cosa succede cosa è successo in in Cecoslovacchia allora il 17 novembre quindi il 9 cade il muro di Berlino quindi i tedeschi passano il 17 novembre un movimento studentesco chiamato Stuha Nastro ok decide di fare una manifestazione per commemorare il cinquantesimo della chiusura dell'università da Praga da parte dei nazisti la cosa interessante è che l'associazione Stuha era stata fondata qualche settimana prima comunque fanno questa manifestazione ok chiamano tutti gli studenti chiudono le università eccetera eccetera stranamente molto stranamente quando la manifestazione stava ormai per sciogliersi arriva la polizia politica e carica gli studenti e comincia a picchiarli a manganellarli eccetera eccetera senza che ci fosse un qualsiasi motivo c'era stata una manifestazione come ce ne erano state altre ok si stava anche sciogliendo quindi non bastava lasciarli andare no decidono di caricarli e si accaniscono particolarmente contro uno studente che viene ucciso dalle manganellate della polizia politica questo studente sappiamo anche il nome Martin Schmid il giorno dopo Radio Free Europe per tutto il giorno dà la notizia che la polizia politica cescoslovacca ha ucciso di botte a manganellate uno studente la gente torna in piazza questa volta tutta la popolazione e porta dei fiori candele eccetera sul luogo dove questo studente era stato manganellato il problema qual è che questo studente non lo conosceva nessuno cioè tutti sapevano che uno studente sapevano che il nome Martin Schmid era morto ucciso dalla polizia ma questo studente non si sapeva chi era si è scoperto qualche anno dopo perché un agente anzi un membro del partito e funzionario della polizia politica si chiamava Zivchak Ludwig Zivchak ha detto che ha agito come infiltrato nella manifestazione del 17 novembre ed è stato lui a essere manganellato per finta dai colleghi e è stato lui lo studente era lui lo studente ucciso che ovviamente non era per niente ucciso cioè gli è andato un po' di botte c'era un po' di sangue probabilmente di pomodoro poi si vedeva lui trascinato per tutta la città per i piedi eccetera eccetera lui in realtà era vivo e vegeto tanto che qualche anno dopo ha fatto questa dichiarazione che era lui quello studente ok questo l'abbiamo l'hanno saputo anni dopo sta di fatto che pochi giorni dopo il segretario del partito comunista cecoslovacco Iakesh e tutta la dirigenza del partito si dimette cioè questi hanno massacrato gente per 50 anni ok gira la notizia che abbiano ucciso uno studente che in realtà non conosce nessuno e poi sappiamo che in realtà non era neanche uno studente non hanno ucciso nessuno si dimettono tutti in blocco cosa succede? viene nominato un altro esponente si chiamava Cialfa ok Marian Cialfa viene nominato capo del partito e quindi capo dell'esecutivo e comincia una serie di riforme economiche a tutto spiano improvvisamente senza che ci sia stata nessuna cioè questi manifestavano perché teoricamente avevano ucciso uno studente si dimettono tutti in massa arriva questo Cialfa e fa una serie di riforme quali ovviamente le solite svendita praticamente di tutto il patrimonio nazionale liberalizzazione dei prezzi quindi inflazione disoccupazione drammatica eccetera eccetera stesse cose che sono successe in Polonia in Polonia arriva questo ministro dell'economia Balzerowicz che in realtà era il burattino di come si chiama quel Chicago Boy che adesso fa il consulente di Paolo Francesco Fabio Cicpera Sì sì Saks esatto Saks qui invece abbiamo un altro Chicago Boy Vaclav Klaus che arriva diventa inopinatamente ministro dell'economia e guida tutte queste riforme questo è quello che viene chiamato rivoluzione di velluto perché in effetti l'unico morto è questo agente della polizia che poi non è morto cioè questi hanno fatto tutto loro la popolazione non ha avuto nessun ruolo se non quella di scendere in piazza tra l'altro trascinata da questa associazione giovanile Stuha appena fondata bene in quel momento salta fuori in Cecoslovacchia a livello pubblico Avel che tiene durante questi momenti tiene un piccolo discorso pubblico quindi la massa della gente finalmente conosce questo personaggio Avel perché prima in Cecoslovacchia era praticamente sconosciuto era più conosciuto all'estero ora la cosa interessante è che da quando è uscito di galera Avel aveva praticamente a fianco tutto il prima c'era la gente che se lo portava in giro che si chiamava come ti ho detto prima aspetta 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 Klaus Juncker adesso si trova accanto questa tizia che si chiama Rita Klimova Rita Klimova era una new yorkese militante trotskista che era di origini cecoslovacchia era fuggita prima della seconda guerra mondiale negli Stati Uniti a New York lì aveva fatto i suoi studi a un certo punto nel 46 ritorna in Cecoslovacchia cioè di solito tutti scappavano dal regime lei torna da New York in Cecoslovacchia e diventa praticamente l'ombra di Avel praticamente è lei che lo guida è lei tra l'altro che ha inventato la locuzione rivoluzione di velluto questa Rita Klimova quindi proprio una spin doctor ok dalle parole giuste eccetera eccetera e praticamente fa crescere Avel come personaggio pubblico tra l'altro qui mi permetto anche un'altra citazione di Soros sempre dal solito libro eravamo tutti d'accordo tutti chi te lo dico dopo eravamo tutti d'accordo sul fatto che fosse imperativo che Vaclav Avel fosse eletto presidente dell'attuale Parlamento col timbro di gomma cioè ufficialmente ok e questi tutti erano Soros ovviamente Cialfa che era diventato il nuovo presidente e questa Klimova quindi loro tre hanno deciso praticamente che Avel sarebbe diventato presidente della Repubblica in effetti qualche giorno dopo viene nominato presidente della Repubblica durante un incontro privato quindi non è stato eletto niente qualcuno si è ritrovato e hanno deciso che lui sarebbe diventato presidente della Repubblica e qui comincia lo show perché ricordiamoci che lui noi abbiamo in mente non so il dissidente come Solzhenitsyn abbiamo in mente un'idea abbiamo un'idea un po' ascetica del dissidente cioè lo specchio delle virtù eccetera lui ha sempre fatto quella vita del tridente di Shiva sesso, droga e rock and roll sempre diventato presidente che cosa fa? la prima cosa che fa la primissima cosa che fa ordina un neon rosso a forma di cuore e lo appende sulla facciata del castello di Praga ok non è l'unica l'unica particolarità perché lui pare che si spostasse all'interno del castello con un triciclo da bambino tipo Shining tipo Shining anche a me è voluto in mente Shining poi cosa fa però casca veramente comunque una dei primi provvedimenti che ha messo in atto è stata un'amnistia generale e generalizzata cioè senza guardare in faccia nessuno ha liberato praticamente tutti i prigionieri e dicono che nei mesi seguenti sono aumentati in maniera vertiginosa sia i reati che purtroppo gli omicidi in Cecoslovacchia adesso non voglio dire che sono stati i prigionieri liberati da Havel però probabilmente qualche contributo l'hanno dato anche loro come succedeva anticamente esatto quando nominavo il nuovo re liberi tutti stanno liberi tutti sì così e poi cosa ha fatto ha cominciato a invitare delle personalità conosciute a livello mondiale tu mi dirai quali personalità grandissime personalità della cultura della politica eccetera ha invitato i Velvet Underground i Rolling Stones Frank Zappa tra i pochi politici che ha invitato ha invitato Bill Clinton ma l'ha portato in un club a suonare il sax Bob Dylan sono tutti questi personaggi del rock dei suoi tempi perché eravamo nell'89 gli anni 60 erano passati da un pezzo quindi ha invitato a ripetizione a nastro tutti questi personaggi ovviamente foto ovviamente concerti all'interno del castello per pochi amici eccetera sembrava proprio un bambino c'è anche un'altra parte un po' particolare che ha fatto seguito la nomina di Avel a un certo punto ha cominciato a diventare membro del board del consiglio d'amministrazione o semplicemente membro di tutte le organizzazioni finanziate da Soros te ne cito qualcuna la Drug Policy Alliance che ha come scopo quello di liberalizzare le droghe membro del club di Madrid che ha come scopo diffondere la democrazia presidente onorario di Freedom Now che era una emanazione del Council of Foreign Relations ha ricevuto il premio Civil Society Vision Awards dell'American Friends of Czech Republic sempre del Council of Foreign Relations e ha ricevuto una medaglia da parte del National Endowment for Democracy quindi tutte queste organizzazioni lui è entrato a far parte di tutti i board consigli d'amministrazione ha ricevuto premi eccetera eccetera questo ovviamente l'immagine all'estero di Avel perché in realtà in Cecoslovacchia l'immagine di Avel era assolutamente disastrosa un po' anche qui come Wawensa osannato osannato come eroe all'estero e beffeggiato in Polonia anche qui succede la stessa cosa la gente ha preso malissimo il fatto che lui abbia fatto questa amnistia generalizzata ha preso malissimo il fatto che lui invitasse queste rockstar che facesse questi concerti esclusivi eccetera eccetera sulle spalle ovviamente della popolazione ma soprattutto ha vissuto malissimo questo cambiamento drastico e drammatico dall'economia pianificata e tutelata protetta che c'era prima all'economia di mercato con disoccupazione inflazione scarsità di tutto svendita di tutte le attività produttive della Repubblica cieca eccetera eccetera tant'è che la rivoluzione di velluto in Cecoslovacchia la chiamano la truffa di velluto perché poi come ti ho detto è venuta fuori la testimonianza di quel poliziotto Zivczak e sono venute fuori altre cose per cui insomma in Cecoslovacchia nessuno ha il mito della rivoluzione di velluto come invece se l'abbiamo noi in Italia o nell'Europa libera nell'Europa occidentale allora le cose curiose sono queste innanzitutto ancora come in Polonia è cambiato tutto perché non cambiasse nulla perché in effetti come hai visto in realtà era ancora il partito che ha condotto il gioco ha cambiato politica prima era una politica sovietica poi è diventata una politica ultraliberista però i protagonisti sono ancora loro hanno creato questo eroe dissidente per l'estero per dare un'immagine all'estero in Polonia Wawensa in questo caso Avel sembra quasi che ci sia uno schema prefissato adesso qui io non conosco la Repubblica la Ciecoslovacchia come la Polonia quindi non ho avuto accesso a tanto materiale come quello che ho potuto utilizzare per il video sulla Polonia non so tutti i retroscene economici che ci sono stati però evidentemente c'è stata una transizione programmata del potere che probabilmente non è arrivata all'ultimo momento ma chissà da quanto era preparata perché non sono cose che si fanno in 4 e 4 8 ecco esatto perché tu pensi stessa rivoluzione d'ottobre è arrivata dopo anni di preparazione 1905 quindi non è una cosa che è stata fatta così all'improvviso ecco tu tieni presente che la Klimova è arrivata dagli Stati Uniti è arrivata in Ciecoslovacchia e praticamente da quando Avel è uscito di galera cioè dell'85 fino all'89 è stata la sua ombra tieni presente che Avel aveva contatti con i servizi segreti fin dal 65 quando è cominciato l'operazione Musk quindi insomma era tanto che qualcuno teneva in mano Avel adesso non so se è ricattato se aveva il suo consenso eccetera eccetera però insomma Avel non è venuto fuori dal nulla non è che all'ultimo minuto ha preso una bandiera eccetera era sconosciuto per i ciechi e per gli slovacchi ok però era molto conosciuto dall'establishment dal potere la cosa che la cosa che emerge abbiamo visto anche in Polonia questi racconti smentiscono l'idea che è caduto il muro di Berlino è caduto il comunismo e quella gente lì è sparita no si è riciclata bravissima l'ecologismo applicato alla politica non si butta via nulla quindi praticamente e questo è successo è successo poi anche in Italia in forma diversa ma c'è la la sinistra rivoluzionaria che si ricicla e si reinventa in chiave ultraliberista una sinistra comunista perché poi ci sono stati magari dei tentativi un po' più soft ma proprio la sinistra comunista si è completamente rigenerata nell'ultraliberismo più sfrenato quello stesso ultraliberismo sfrenato che negli anni settanta era stato applicato dalle terribili dittature fasciste della Sud America questo non è che accende qualche lampadina ma come le stesse politiche di cavallo che venivano applicate in in Argentina sono le stesse che venivano applicate da questi signori nei paesi della oltrecortina uno era era un regime fascista l'altro regime comunista e hanno fatto la stessa la stessa identica cosa due notazioni innanzitutto è assolutamente vera questa cosa per cui la gente questa gente non è sparita cioè tu pensa a tutto l'apparato dei servizi segreti della polizia di Stato dei militari cioè non è che questa gente dalla fine di novembre è scomparsa nel nulla sono rimasti e sono rimasti poliziotti sono rimasti giudici sono rimasti questo è il problema adesso non è che voglio tornare alla Polonia ma questo è il problema della magistratura della giustizia in Polonia tutte le volte noi vediamo come il governo vuole cambiare la magistratura eccetera eccetera non è giusto i poteri devono essere distinti eccetera la premessa però è che i giudici che ancora adesso sono nella Corte Costituzionale nei vertici della magistratura polacca sono ancora i giudici comunisti il fatto che non si sia rotto neanche un vetro ha fatto sì che per esempio Jaruzelski non subisse neanche un processo che morisse tranquillamente nel suo letto osannato da Wawenza e osannato dal direttore di Gazzetta Viborcia mi sfugge il nome cioè andavano Michnik esatto andavano a omaggiarlo quando stava per morire ok quindi non è che che poi era la richiesta di Kaczynski perdonami se torno alla Polonia lui diceva ok non facciamo processi non discriminiamo nessuno ma facciamo in modo che se qualcuno lavora per la pubblica amministrazione deve dichiarare di aver collaborato con il regime solo questo poi almeno dichiararlo pubblicamente c'è stato una levata di scudi eccetera eccetera stessa cosa in Cecoslovacchia chi aveva il potere poi l'ha mantenuto tale e quale chi faceva la fame prima l'ha fatta peggio dopo ok non c'è stato un cambiamento per quanto riguarda il fatto che ci sia stato questo tradimento della classe operaia questo tradimento ideologico eccetera eccetera questo è un'incoerenza è un tradimento per me e per te che crediamo nel principio di non contraddizione nei principi aristotelici di identità e non contraddizione i rivoluzionari i rivoluzionari credono appunto nella rivoluzione cioè nella continua trasformazione Trotsky diceva Marx non ha capito niente perché lui diceva una volta arrivata la dittatura e il proletariato instauriamo la società senza classi finita lì e Trotsky diceva tu non hai capito niente la rivoluzione non può fermarsi se tu fai la dittatura e il proletariato e la società senza classi dovrai distruggere anche quella e creare qualcosa di nuovo perché la rivoluzione consiste nel cambiamento non nell'arrivare all'eguaglianza tra le classi la rivoluzione è il cambiamento quindi il fatto che questi siano passati dai piani quinquennali alla liberalizzazione più totale del mercato non è altro che l'applicazione di Hegel tesi antitesi sintesi dal loro punto di vista non è una contraddizione è l'ennesima dimostrazione che lo spirito del tempo va in quella direzione lì c'è una lotta fra due opposti e poi si arriva a una situazione superiore che crea il suo opposto e via così all'infinito per cui dal loro punto di vista non c'è nessuna contraddizione la solita battuta se il papa si affacciasse al balcone di San Pietro era una battuta adesso si sa mai che domenica succeda veramente e dice abbiamo trovato le ossa di Gesù tutti i cattolici dicono vabbè ragazzi scusateci abbiamo sbagliato ce ne torniamo a casina eccetera principio di identità e non contraddizione non puoi dire una cosa e il suo esatto contrario puoi dire che è risorto poi trovi le ossa ok per loro questa cosa non vale cioè se non c'è la contraddizione non c'è rivoluzione per cui per loro non c'è nessun problema riciclarsi in questo modo non è un problema però bisogna crearla l'occasione perché senza senza l'occasione da solo non è un fenomeno spontaneo no esatto infatti devi preparare devi preparare non è un fenomeno spontaneo infatti abbiamo visto con la Polonia e continuo a parlare della Polonia perché sono fissato che è una storia che parte dal 70 per arrivare all'89 ci sono voluti 20 anni 20 anni di grandissimi lavori dal punto di vista finanziario eccetera eccetera per arrivare a una soluzione che è stata quella dell'89 della caduta del comunismo non è stata anche qui il solito punto Avel si è messo alla testa del popolo e il partito comunista ha chiesto scusa e ce ne torniamo a casa no 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 le rivoluzioni non funzionano così la gente normale non fa la rivoluzione la gente normale deve portare a casa il pranzo e la cena deve occuparsi dei figli deve lavorare non fa le rivoluzioni la gente normale la rivoluzione la fanno i rivoluzionari professionisti ok e ce ne sono non mancano anche ai giorni nostri la rivoluzione la fa sempre il potere non è contro il potere è chiaro che chiama l'avversario tiranno non può mica contro il regime di adesso va di moda il regime chi non ci piace ha sempre un regime ecco cosa volete che vi dicano che sono stati eletti democraticamente che hanno il favore del popolo no sono brutti cattivi sono un regime sono tiranni ma la sostanza è sempre quella una lotta antidemocratica tra un nuovo potere rampante e il vecchio potere in decadimento con un potere superiore che poi rimane sempre mai scalfitto da nessuna nessuna rivoluzione e che regolarmente paga una parte e l'altra bravissima questo è un altro concetto fondamentale cioè l'abbiamo imparato fin dal settecento che questi giocano puntano sia sul nero che sul rosso comunque vincono loro ok come succedeva prima di Trump adesso non so come andò a finire con Trump prima di Trump negli Stati Uniti cioè sostanzialmente era lo stesso partito diviso in due tu potevi scegliere tra la guerra e l'aborto questa era la scelta che alla fine era lo stesso partito questo è il bipolarismo cioè scegli tra l'economia di mercato o la schiavitù di mercato perché poi alla fine questi paesi erano i nostri schiavi producevano costo zero senza diritti per garantirci un tenore di vita che doveva essere espansivo continuamente questo era però il gioco era sempre lo stesso erano due facce e la stessa medaglia è Lewis mi parla nelle lettere di Berlicche che dice che il diavolo crea due mali e ci chiede di scegliere tra un male e l'altro comunque vince lui comunque scegliamo un male è interessante perché invece anche qui possiamo inserire il discorso di come invece queste cose vengono narrate non a caso l'ultimo libro di Klaus Schwab si chiama la narrazione ovvero come vengono raccontate le cose il ruolo della stampa di chi racconta questa cronaca nel momento in cui avviene e poi purtroppo come viene scritta anche in forma di storia di storiografia si creano queste queste leggende mi veniva in mente prima quando parlavi di questa false flag operazione bandiera dello studente finto studente ucciso finto morto finto ucciso viene in mente anche non so se hai presente quel film che è stato tradotto malamente in sesso e potere walk the dog fantastico si che è un film con De Niro dove lui è uno spin doctor e praticamente si creano per coprire uno scandalo alla Clinton del presidente sessuale si del presidente americano questo qui crea dal nulla una rivoluzione colorata in uno di questi paesi un fantomatico paese dell'est con la bambina che fugge col gattino in mano tutto fatto in studio tutto falso la cosa fantastica è che qualche mese dopo l'uscita del film c'è stato lo scandalo Levinsky proprio qualche mese dopo la stessa cosa il film anticipato di qualche mese la realtà però è così l'informazione in realtà non è informazione l'informazione è propaganda anche questi eroi abbiamo visto l'altra volta Wensa adesso Avele i veri eroi la Valentinovic per dire che è veramente stata l'eroina di Solidarnosc ha vissuto in povertà i suoi ultimi giorni con la sua pensione da operaia ed è morta pensa nell'incidente di Smolensk perché Kaczynski l'hanno voluta con loro perché loro sapevano chi era che aveva dato il suo contributo fattivo chi era l'anima e lei è sconosciuta in Italia nessuno sa chi è questa questa donnetta umile una saldatrice abbiamo detto un'altra volta perché tutti hanno in mente i baffoni di Wensa qui parliamo di ciecoslovachia tutti hanno in mente Avel però ragazzi anche quello che accade in Romania con la caduta di Ceausescu questi minatori che arrivano sbucano dal nulla si mettono a ammazzare gente con gli strumenti di lavoro ma ragazzi ma è un film questo i morti di Timi Shohara che pare che siano stati tirati fuori dagli obitori infatti dopo quando sono andati a guardare meglio avevano i tagli degli esiti dell'autopsia quindi avevano fatto e appunto c'è sempre il rischio in questi racconti non soltanto delle rivoluzioni ma anche delle guerre ricordiamo come sono state raccontate le guerre in Iraq non parliamo poi di tutto il resto è difficile sapere quello che sta accadendo veramente e quello che invece è una costruzione in realtà sai Barbara gli spin doctor non si preoccupano di quello che accade non voglio fare riferimenti all'attualità ma loro si preoccupano solo di costruire una cornice il frame poi qualunque cosa accade tu nel frame ce lo fai stare l'importante è che dai il frame ok ti faccio un esempio due o tre anni fa 4 novembre festa delle forze armate anniversario della fine della prima guerra mondiale il sindaco del mio paese fa un discorso dicendo ricordiamo i nostri compaesani che sono morti in questa guerra atroce del 15-18 per difendere i sacri confini della patria scusi signor sindaco noi eravamo gli invasori cioè sono gli austriaci che hanno difeso i sacri confini della patria noi abbiamo invaso l'Austria il 24 maggio i fanti come dice la canzone hanno invaso quello che era territorio austriaco noi siamo i buoni quindi qualunque cosa facciamo e così per tutte le altre guerre per cui se un dittatore sanguinario gasa i propri concittadini che ne so in Medio Oriente in Africa bisogna bombardarlo perché ha passato la linea rossa se i gas vengono usati in Europa ha fatto bene perché questi erano violenti cosa ha detto Trudeau adesso omofobi eccetera e quindi va bene usare la violenza contro i propri cittadini perché tu hai creato un frame non importa poi cosa ci metti dentro ci sta dentro di tutto nel frame l'importante è che tu crei un frame una narrazione come dicevi tu ok poi anche gli elementi contrastanti ce li metti dentro lo stesso trovi una giustificazione la più assurda per farci entrare questi elementi l'importante è fissare un frame questo è il ruolo del Spin Doctor anzi proprio la caratteristica che poi è apparsa in tutte le opere della dissidenza ma soprattutto quella che cercava di raccontare veramente quello che succedeva al di là della cortina di ferro era proprio questo mettere in evidenza le contraddizioni le assurdità le situazioni le abbiamo nominato prima a Cafchiane il teatro di Ionesco eccetera tutte queste situazioni che appunto nascono dalla negazione e dalla rifiuto del principio di non contraddizione esatto in cui è vero tutto ed è vero il contrario di tutto è così cioè se tu stabilisci un frame non hai bisogno di star lì a contestare sì ogni tanto puoi metterci dentro una bugia ma comunque passerebbe lo stesso cioè tu puoi dire qualsiasi cosa abbiamo ucciso non so quanti civili danni collaterali e va bene cioè tu crei una nuova formula una nuova locuzione rivoluzione di velluto danni collaterali eccetera e va bene qualsiasi cosa puoi dire di tutto ti inventi proprio come nel film Wack the Dog che giustamente invitiamo chi ci segue a vederlo perché è un film davvero eccezionale è poco conosciuto purtroppo ma eccezionale è così tu inventi un racconto una storia e basta quello sì poi sul ruolo del cinema come predittore penso che ci sarebbe da scrivere l'altro giorno ho rivisto il seguito che hanno fatto di Blade Runner si chiama Blade Runner 2049 negli extra quelli che uno va a guardarsi nel Blu-ray c'è il racconto che spiegano che l'azione del film si svolge nel 49 a seguito del grande blackout del 2022 arrivato dopo l'inizio della grande crisi del 2020 e il film è del 2019 mi pare quindi non so cosa è strana così come dicono che i Simpson predicono il futuro nel senso ci sono tantissime situazioni che si vedono nei Simpson che poi pari pari vengono vissute nella vita quotidiana comunque direi che il messaggio di questa sera è che le rivoluzioni bisogna vedere perché appunto dopo una rivoluzione come quelle che abbiamo descritto sia in Polonia che in Cecoslovacchia nessuno poi ha ancora scritto quante perdite umane ci sono state dall'applicazione di questa shock economy nei vari paesi dove è stata applicata prima ho citato i paesi sudamericani non parliamo poi della Russia quando è caduta l'Unione Sovietica che c'è stata un disastro dal punto di vista economico e in questi paesi appunto della cortina di ferro dove anche lì è stata la politica della sperimentazione vediamo quello che succede vediamo fino a che punto possiamo spingerci fin dove arriva la sopportazione la resilienza e quindi abbiamo raccontato anche questa questa storia di questi di queste figure rivoluzionari che poi alla fine hanno avuto le loro miserie e forse i loro compromessi eh sì io penso che gli eroi di solito sono quelli che non finiscono sui giornali in Cecoslovacchia ci sono state tante persone che nel loro piccolo hanno dato una mano al vicino hanno protetto una persona in difficoltà eccetera queste non finiscono sui giornali c'è poi tutto il problema non solo di chi fa i giornali perché li fa no? se sono veramente dei filantropi che vogliono il nostro bene vogliono istruirci eccetera o semplicemente come è più probabile vogliono come dire orientare influenzare la popolazione però ci sarebbe una grossa riflessione da fare su questi 75 anni di democrazia che noi abbiamo avuto da questa parte del muro nel senso che in fondo anche quello che è successo in Polonia in Cecoslovacchia la narrazione sull'89 in Polonia in Cecoslovacchia ha alimentato il mito che è il potere del popolo adesso potremmo anche permetterci di dubitare di questa cosa che in realtà il popolo non conta niente se non conta niente adesso non ha mai contato niente quindi questa era l'ennesima narrazione perché raccontarci che c'è la democrazia perché raccontarci che la sovranità appartiene al popolo se in realtà non è vero e qui si apre al dibattito insomma siamo un po' alla resa dei conti forse speriamo di no no nel senso che è un sistema che è arrivato al punto di dover svelare quali sono i suoi veri scopi non riesce più a nascondersi dietro questa democrazia questo feticcio di democrazia che in pratica viene smentito in ogni momento esatto questo è preoccupante questo è preoccupante perché si ha quasi l'impressione che abbiano perso il controllo che siano in discesa che si siano accorti che i freni non reggono questa inflazione fantasma di cui nessuno parla qualcuno osa dire che siamo al 6% che è destinata a salire però non è un tema non se ne parla non è sui giornali non è un problema politico di cui la politica si deve occupare ho così l'impressione che qualcuno si sia accorto che non ci sono i freni e chissà che da qui non nasca un modo diverso forse veramente democratico o quantomeno di poter usufruire di quei momenti a fisarmonica in cui si spreme il limone fino all'impossibile e poi si concede un periodo di espansione nuovamente perché se no il sistema non regge sì perché qualunque parassita ha bisogno che l'organismo parassitato viva perché se muove lui è finita certo bene caro Roberto anche questa sera abbiamo buttato diversi ami in questo laghetto dove speriamo di pescare un po' di riflessioni per i nostri ascoltatori che aiutino anche un po' a leggere in prospettiva l'attualità la storia è interessante affascinante proprio perché offre tanti spunti per la lettura del presente si dice che la storia tende a ripetersi e la seconda volta in farsa non lo so se lo diceva Marx speriamo speriamo in farsa e non in tragedia bene di nuovo caro Roberto ci vediamo al prossimo incontro e ringrazio naturalmente tutti coloro che ci hanno ascoltato fino adesso buonasera a tutti buonasera a tutti iscriviti al nostro canale